La musica. Prima di conoscere Pancaldi, io ed Andy, che suonavamo insieme all'età di 16 anni, avevamo già messo in piedi una serie di progetti, cambiando nomi e generi musicali, sempre caratterizzati da un repertorio di canzoni nostre, tra l'elettronica e la new wave, tutte scritte in inglese. Nell'87 Andy mi disegnava le copertine a mano libera con i pastelli per la demo tape che io realizzavo con il Quattro Piste e che consideravo i miei progetti solisti. Una di queste era Dandy Bird and Mr. Contradiction, veramente molto dissonante, un'altra si chiamava Prototype. Insieme, invece, avevamo il progetto che portava la pseudotraduzione del suo cognome, che da fumagalli diventava Smoking Cox. Avevo conosciuto Andy ad una festa di un mio compagno di classe, Francesco Masetto, che in quel periodo era il mio miglior amico ed era un ragazzino con un'intelligenza molto viva, diverso da tutti i nostri coetanei, forse perché aveva fratelli più grandi. Noi, all'età di 14 anni, ascoltavamo la musica che c'era nell'aria, mentre lui ascoltava fondamentalmente i Pink Floyd di Sid Barrett e i Vervet Underground di Lou Reed. Arriva il giorno del quindicesimo compleanno di Masetto e ci invita a casa sua la domenica pomeriggio. Fu lì che io suonai al pianoforte canzoni del lato B di Black Cerebration, veramente molto strambe. A un certo punto sento nel mio orecchio sinistro una voce che armonizza perfettamente sul registro grave i cori di quei pezzi semi sconosciuti. Sto parlando esattamente del brano It Doesn't Matter Too. Cantiamo tutta la canzone e solo alla fine mi volto per vedere chi fosse. Era un ragazzo biondo e magro, molto gentile. Gli ho chiesto quanti anni avesse, uno più di me. Mi dice che fa il pattinatore e balla la breakdance. Non faceva il cantante, ma era semplicemente un grande appassionato dei Depeche Mode. No, tu da oggi fai parte del mio gruppo. Andò a comprarsi un sassofono e nacquero di Smoking Cox. Producevamo le nostre demo tape un'ottava di pollice in cantina. Producevamo questi oggetti, che chiamavamo album, con tutti gli elementi necessari, dalla grafica al libretto dei testi, alla locandina di eventuale concerto che rispettasse lo stile grafico, fino ai volantini pubblicitari. Avevamo quest'idea, volantini. Non eravamo certo prodotti da una casa discografica, quindi andavamo personalmente con centinaia di questi volantini per le strade di Monza e di Milano, fuori dai fast food e dai bar, spiegando alla gente cosa eravamo e cosa facevamo. Avevamo già le idee piuttosto chiare. Oltre a me e a Dandy, negli Smoking Cox, c'era anche Fabiano Villa, un mio compagno di liceo. Anche lui, ottimo songwriter in erba. Abbiamo lavorato tanto insieme, scritto tanto, prodotto tanto, suonato tanto, volantinato tanto e fatto concerti. Infatti, il nostro lavoro è stato riconosciuto da una vera casa discografica, perché nel 1988, e io avevo 16 anni, Roberto Rossi ci ha scoperti proprio al Teatro Villorese di Monza e ci ha proposto di fare un disco vero, con una vera casa discografica, a condizione che cambiassimo il nome, giudicato un po' scurrile dopo il doppio senso equivoco. Ecco che, consultando un po' di libri per ispirarci a trovare un nuovo nome, ci imbattemmo in The Golden Age of Comedy, una raccolta di grandi commedie americane. Abbiamo tolto la commedia ed è rimasta l'età dell'oro. Pensandoci oggi, quella è stata veramente la mia età dell'oro. Noi ci chiamavamo così, Golden Age. Nell'89 cominciamo a registrare a casa di Roberto Rossi, che all'epoca era un produttore. Aveva molti sintetizzatori, programmava la musica a colatari e con i primi computer Macintosh, in particolare con i programma performer. È con lui che ho cominciato a costruire seriamente la stesura delle canzoni. È stata per me una scuola molto utile per la produzione della musica pop. Roberto in questo è stato davvero il mio maestro. Era il 1990. Il mercato musicale stava attraversando un cambiamento. Una nuova leva di cantautori si affacciava a successo. Parlo di un giovane Biagio Antonacci e di un giovane Masini. Il disco dei Golden Age era fondamentalmente un disco di musica pop di ispirazione New Wave, scritto e cantato in inglese da parte di italiani. Non andò bene, perché vendette solo 12.000 copie. Oggi, invece, un risultato del genere sarebbe considerato un successo, ma all'epoca determinò lo scioglimento del contratto. I Golden Age si ritrovarono così in strada, diventando gli Street Age. Anche senza un contratto discografico continuavamo però a fare concerti e abbiamo inaugurato una metamorfosi. Innanzitutto la scrittura dei testi, responsabilità di cui mi sono assunto il rischio. Ho cominciato a scrivere in italiano. Ho passato un periodo di grande crisi creativa perché non sapevo, non riuscivo, non mi piaceva, non capivo come si potesse scrivere in italiano. E allora mi sono rivolta alla musica italiana che mi piaceva. Ho riascoltato in modo analitico quello che già conoscevo, ma che non aveva ascoltato così attentamente da poter imparare. Mi sto riferendo ai dischi di Battiato Pop, L'età del Cinghiale Bianco, Patriots, La Voce del Padrone, Orizzonti Perduti, Mondi Lontanissimi, poi ai dischi di Edoardo Bennato, come Burattino senza fili, Arrimel di De Gregori, Sugo e Il vento di Elora di Finardi. Ecco quali dischi mi hanno ispirato una scrittura italiana. Il passaggio metabolico da scrittore di canzoni pop inglesi ad autore di canzoni italiane è stato difficile e doloroso. Ciò che mi ha dato l'illuminazione definitiva su quella che sarebbe stata la mia strada di autore di musica italiana è stata la lettura di Il mestiere di vivere, di Cesare Pavese. Quest'opera è stata la chiave di una nuova creatività, frammentaria, fatta di frasi, laboratorio linguistico ed esistenziale. Oltretutto Pavese amava la letteratura americana e credo che questo lo abbia reso per me un traghettatore dall'inglese all'italiano. La prima canzone che ho scritto, convinto pienamente di fare qualcosa di esatto per me, è stata Vivo su una mela, le cui frasi sono estrapolate da il mestiere di vivere, tranne il ritornello Io sono un pazzo, vivo su una mela. Ho sempre rifiutato io di essere compreso perché essere compreso vuol dire prostituirsi. Preferisco essere preso io molto seriamente per quello che non sono io, ignorato umanamente. Blu Vertigo Vivo su una mela 1995 Questo è anche Pavese. Da qui ho iniziato a scrivere uno stile cut-up fatto di inventiva, di protesta esistenzialistica e non politica. è nata così anche la canzone LSD La sua dimensione. Cosa stai dicendo? Non connetti, forse è troppo tempo che rifletti. Lascia invece che il tuo respirito si liberi nell'aria. Trovi la sua dimensione. Blu Vertigo LSD La sua dimensione 1995 Oppure Io odio dove dico Odio Masini e le sue ansie. Blu Vertigo Io odio 1995 Ora potete capire chiaramente perché odiassi Masini e le sue ansie. I Golden Age a questo punto diventavano i Blu Vertigo perché il loro nome rappresentava la canzone inglese e in quel momento avevo invece bisogno di un nome che fosse italiano internazionale. Quindi il latino poteva funzionare. I post Golden Age presto Blu Vertigo saranno un progetto ibrido fatto da Golden Age e da musicisti Session Man che chiamavo per avere la sonorità rock di cui avevamo bisogno visto che eravamo una band pop New Wave. All'epoca si stava diffondendo il suono americano rock del grunge di Nirvana per intenderci e noi invece andavamo in tutt'altra direzione. Anche lì è stata necessaria una totale metamorfosi. Il 4 piste diventa un 8 piste poiché la tecnologia si sviluppa e in modo molto più alto qualitativamente. Continuiamo a realizzare i nostri provini. Siamo nel 91 e proprio in quell'epoca ho realizzato tutte le canzoni che entreranno nei dischi dei Blu Vertigo. È stato un momento di creatività assoluta enorme in quei provini c'eravamo io Andy e Pancaldi. Fabiano se n'era andato e avrebbe formato i rap Sodia a causa della delusione per l'insuccesso del disco aveva lasciato la band. A me i rap Sodia piacevano tantissimo rap più Sodia facevano crossover li invidiavo un sacco per il sound così moderno e in più scrivevano bene e in italiano come reazione io scrissi l'eretico perché volevo misurarmi con i crossover fatto da rock funk funky rap. Ma era un crossover elettronico perché purtroppo non avendo il batterista dovevo simulare la batteria vera attraverso l'elettronica simulazione di rock solo nel terzo disco del blu vertigo zero in cui finalmente mi ero liberato dalla paranoia di essere fighetto perché non rock and roll ho completamente sdoganato l'elettronica mentre provavo a scrivere le canzoni in italiano cercavo anche una strada discografica avevo scritto alcune pezzi in inglese e ne avevo fatto le provini sempre in inglese ed eravamo io Andy e un chitarrista che si chiamava giambordoni che poi non proseguirà con noi avevo scritto cinque canzoni rock con ritornello ispirato a quei a quei brani degli U2 di Actung baby diciamo a un rock psichedelico non so come siamo arrivati in via Piero della Francesca dove c'era la produzione Nisa di Alberto Salerno e Mara Maionchi entrambi ottimi discografici che in quel periodo stavano producendo Leandro Barsotti Alberto peraltro grandissimo autore di canzoni si era offerto di tradurre i testi delle mie canzoni in italiano ma le sue traduzioni non mi convincevano così dopo alcuni mesi ho portato loro le mie traduzioni di vivo su una mela I still love you e io odio e lui ci siamo nonostante ciò la polygram allora non volle produrle e noi con il provino contenere io odio contenente io odio I still love you vivo su una mela l'eretico cieli neri altri pezzi siamo finiti nel 94 effettivamente dopo tre anni di peregrinazione a casa di Robert Gligorov artista figurativo che voleva fare l'handy warrell della situazione e voleva i suoi velvet underground cioè noi l'ho rivisto ultimamente e mi ha confessato che i nostri pezzi li facevano schifo ma che gli piacevamo noi lui ci presenta Mauro Paoluzzi produttore musicale che ha uno studio le cave production ci accoglie nella sua etichetta indipendente da lì è partita l'avventura dei blue vertigo anche Fabrizio Intra è stato importante nella nostra storia direttore della Sony Music all'epoca Columbia CBS Epic ci propose di firmare un contratto con la sua major proprio perché facevamo una cosa che nel mercato era assente infatti esistevano esistevano da una parte la via alternativa e dall'altra la via mainstream con noi si era proposto di aprire una nuova strada e così è stato purtroppo Fabrizio non c'è più è morto presto ma la sua intuizione ci ha regalato la nostra strada Sergio l'ho visto per la prima volta in un posto di Monza che si chiamava Incantesimo club discoteca del sabato pomeriggio e con scarsi eventi musicali un bel giorno era il 90 o 91 vado a sentire questa serata che mi ricordo veniva condotta da un giovane Linus mi presento al sound check e c'era questo bassista che suonava da Dio quindi naturalmente mi avvicino e gli faccio i complimenti e lui veramente io suono la batteria il bassista del gruppo è mio fratello quella sera con Sergio abbiamo suonato insieme All She Once Is de Duran Duran stacco la scena successiva siamo io e Sergio alla villa reale che passeggiamo alla villa io ho fatto sentire a Sergio i provini di quello che poi sarebbe diventato acidi e basi e questo era il nucleo storico del blu vertigo io di Mugio Sergio di Busto Arsizio Andy di Monza Pancaldi di Genova e successivamente trappientato a Monza all'inizio degli anni 90 ci ritenevamo una piccola avanguardia quando arrivavamo in un posto non c'era nemmeno bisogno che attaccassimo gli strumenti per capire che non centravamo niente con i Soundgarden in più eravamo molto difficili da collocare nessuno ci riconosceva infatti nei circuiti della musica alternativa venivamo bollati riduttivamente come revival degli anni 80 mentre nei centri sociali dove magari succedevano anche delle cose che non c'era un'esercizio di un'esercizio